Eccoci di nuovo insieme, dunque ottobre è un mese importante perché si ricorda il tema delle missioni, un tema fondamentale al giorno d'oggi. E noi in questa mattinata vogliamo parlare di un grande santo missionario, un uomo che ha fatto della missione la propria vita, è Saint Charles de Foucault. Tutti lo conosciamo, è stato recentemente canonizzato da Papa Francesco e vogliamo parlare del tratto missionario di Saint Charles con uno dei suoi massimi conoscitori, Padre Andrea Mandonico, che è collegato con noi tramite Skype. Buongiorno e bentrovato Padre Andrea. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Bene, dicevamo di questa vita missionaria di Saint Charles, anche se è difficile anteporre il San a questo uomo, a questo personaggio che tutti conosciamo familiarmente, semplicemente come Charles de Foucault. Però la Chiesa ce l'ha dita come santo e noi ci atteniamo allora alla nomenclatura. Un monaco che viveva solo con Dio ma in mezzo ai fratelli. Ecco, questa è una definizione molto bella di Charles de Foucault. Ecco, quanto è importante questa figura, questo santo Charles in questo mese dedicato alle missioni? La sua domanda cade molto bene perché ieri pomeriggio ho dovuto, con piacere, presentare proprio all'Università Lateranese la missionarietà di padre di Saint Charles de Foucault. Perché è stato scritto un recentissimo libro da uno studioso che dice che ha come titolo Storio di un missionario controcorrente. È un libro fatto molto bene e l'importanza, a mio parere, come ho spiegato ieri anche all'Università, l'importanza della missionarietà di Charles de Foucault è che ha creato un nuovo stile di missione. Se noi pensiamo alle missioni del fine ottocento e inizio novecento, dove un padre missionario, io parlo anche con esperienza perché sono un missionario, arrivava in un posto, in una missione, costruiva la chiesa, la casa, le scuole, il dispensario e tutto, Charles de Foucault arriva in Algeria e non costruisce niente se non la propria casa e con alcune stanze per accogliere coloro che passavano a visitarlo. Non era il costruire qualcosa, ma era il vivere in mezzo alla gente e con la propria vita, col proprio esempio, con la propria bontà, con la propria preghiera, mostrare che Dio era presente, che Gesù era già lì per salvare questo popolo. Quindi una missionarietà che è presenza, una missionarietà che è preghiera, una missionarietà che è santità di vita e non dobbiamo dimenticare le beatitudini indicate da Papa Francesco come strada maestra per la santità e poi la santità come carità verso tutti. Ecco, questo è un nuovo stile, il nuovo stile di missionarietà che Charles de Foucault, che San Charles de Foucault ci ha donato con la sua persona e con la sua esperienza. Io voglio citare un breve tratto di ciò che è stato Charles de Foucault, di come Charles descrive se stesso Amore fraterno per tutti gli uomini, vedere in ogni uomo un figlio del padre che è nei cieli, essere caritatevole, pacifico, umile, coraggioso con tutti, pregare per tutti gli esseri umani ed offrire le proprie sofferenze per tutti. Io credo, padre Andrea, che Charles ci dia una lezione importantissima dal punto di vista non solo della fede cristiana ma anche del rapportarci poi con gli altri che ci affiancano. Scusate, sì, è proprio un nuovo, come dire, un nuovo stile. Lei pensa che questo stile indicato di amore fraterno per tutti gli uomini, vedere un figlio del padre, appena quello che hai appena detto, come sia importante oggi in questa situazione odierna del mondo che Papa Francesco continua a interrogarci, non tanto e non solamente dal punto di vista cristiano, ma prima di tutto dal punto di vista umano. Siamo tutti fratelli perché figli di Dio, perché uomini e donne figli di Dio con lo stesso padre. E quindi la necessità di volerci bene, di essere caritatevoli, di essere umili e coraggiosi per sradicare il male che ancora esiste nel mondo d'oggi. Pensiamo alla pace, all'Ucraina, ma anche alle 168 guerre dimenticate nel mondo intero, dimenticate di cui nessuno parla e che fanno migliaia di vittime ogni giorno. E quindi questo ideale, o questa attitudine, questo modo di vivere che Frater Carlo ci ha insegnato, è credo e sono convinto che è più che mai attuale per noi oggi, per la Chiesa e per il mondo soprattutto di oggi. E' un po' quello che il Papa Francesco diceva ai nuovi cardinali il 27 agosto scorso, è quel lumicino, quel fuoco che deve ardere nel cuore di tutti gli uomini che Gesù ci ha portato e che deve ardere nel cuore di tutti gli uomini per giungere a quel regno di Dio che è venuto a inaugurare con la sua persona, con la sua presenza, con l'essere in mezzo a noi. Padre Andrea, provando un po' a grattare la superficie della spiritualità di Charles, che è una spiritualità straordinaria, che andrebbe davvero approfondita non in dieci minuti di intervista, ma in ore e ore e forse non basterebbero neanche. Mi sono imbattuto in questo apostolato della bontà, che tanti commentatori descrivono quando parlano di questo straordinario santo, di questa straordinaria figura. Ecco, Charles dice che si parla di bontà e che va praticata quando c'è prima una profonda amicizia con Gesù. Ecco, bisogna essere buoni, ma prima di essere buoni bisogna essere amici con Gesù. Ecco, ci vuoi un po' spiegare questo tratto della sua spiritualità? Ecco, la bontà è un suggerimento che gli ha dato il suo padre spirituale, l'Abbé Yvelin, quando è rientrato in Francia per l'ultima volta nel 1913. Gli ha detto di essere buono e di una bontà che non è tanto la buona azione di ogni giorno, ma la bontà che è prima di tutto, e questo mi sembra importantissimo, prima di tutto imitazione di Gesù. Infatti gli dice che tu devi essere buono perché vedendoti così buono ti devono chiedere perché sei così buono e devi rispondere perché io ho un padrone migliore, più buono di me. Quindi è una bontà cristologica che è uno stile di vita e non un'azione semplice, ogni giorno mi lascio commuovere da qualcosa e lo faccio. No, no, è uno stile di vita che è una vita ad imitazione di Gesù Cristo. E noi sappiamo quanto sia importante l'imitazione nella spiritualità di frate Carlo, di Saint Charles de Foucault, un'imitazione che voleva essere interiore, imitare Gesù nella sua vita di preghiera, nella sua vita di intercessione, nella sua vita di bontà, appunto di bontà, di amore, di carità verso tutti. E poi è una bontà che diventa attenzione all'altro, proprio a nome di Gesù Cristo, proprio perché fratelli di Gesù Cristo sono attenti ad ascoltare l'altro, a diventare amico dell'altro, ad aiutarlo nelle sue difficoltà, nei suoi problemi, a fare di tutto perché l'altro sia felice, perché l'altro sia veramente un uomo degno di questa umanità. Quindi questi due aspetti, bontà cristologica e bontà verso gli altri, diventano proprio i due aspetti fondamentali del vivere la bontà che Gesù ci ha insegnato. Io vorrei inserire altri tre aspetti, padre Andrea, per chiudere la nostra chiacchierata, che vengono dalla vita di Carlo, di Charles, essenzialità, preghiera e meditazione. Ecco, sono anche delle caratteristiche che a 60 anni dal Concilio Vaticano II ritroviamo in quello che deve essere un po' l'identikit del missionario al giorno d'oggi, nonostante siano passati 60 anni dal Concilio e molti di più dalla morte di Carlo. Ecco, quali devono essere allora le caratteristiche spirituali di chi si approccia alla missione? Tutti siamo missionari, d'altronde poi come ci dice Papa Francesco. Guarda, a questo riguardo, nel regolamento che ha scritto Charles de Foucault, ci sono dieci indicazioni di come ognuno di noi può essere missionario e deve essere missionario. C'è chi parte per annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della Terra, c'è chi invece su consiglio del direttore spirituale o per le sue circostanze non può partire. Allora Charles de Foucault indica, ne dico alcune, non tutte, indica l'essere santi come primo gratigino dell'essere missionari, la penitenza, il sacrificio, la croce, portare la propria croce senza andare a cercarla, ma accettare quella che ci viene dal Signore, la preghiera, pregare per la salvezza di tutta l'umanità. E qui io mi farei riferimento anche in modo particolare all'Evangelii Gaudium, dove Papa Francesco parla dell'importanza proprio missionaria dell'intercessione. E qui anche Padre Pio è stato grandissimo in questo aspetto. E poi c'è anche l'aspetto dell'Eucarestia, l'essere di diventare dono per gli altri. Papa Francesco quando ci ha incontrati nel saluto dopo la beatificazione, dopo la canonizzazione di Frater Carlo, ci ha detto due cose che mi sembrano importanti. Che Frater Carlo ci insegna a dare all'essenziale Jesus Caritas, Dio è amore, e quindi questo mai dimenticarlo, siamo amati per amare. E poi l'altro aspetto importante che ha sottolineato il Santo Padre è l'universalità. Nel nostro amore, nel nostro essere missionari, nel nostro vivere il Vangelo, non dobbiamo mai escludere nessun altro, anzi l'essere fratelli di tutti, senza distinzioni di razza, di religione o di etnia, ma tutti devono percepire che l'amore che noi riceviamo da Dio è proprio il cuore della nostra vita cristiana ed è un cuore aperto a tutti, fino agli estremi confini della terra, agli estremi orizzonti di questo mondo. E Dio sa di quanto abbiamo bisogno di questo amore universale oggigiorno. E ci aiuti allora San Charlie in questo difficile compito che abbiamo davanti e che ci coinvolge tutti. Mi permetterei di chiudere così, allora Padre Andrea, la nostra chiacchierata. Ti ringrazio di cuore per essere stato con noi, per averci aiutato un po' ad entrare in questo mondo bellissimo della spiritualità di Charles de Foucault che attira davvero migliaia di persone in tutto il mondo. Grazie di cuore. Grazie, è sempre a vostra disposizione. Grazie, grazie Padre Andrea, grazie di cuore. Restituiamo allora la linea alla regia e poi ritorniamo ancora insieme con Just Today.